Ciao a tutti cari amici e cari amiche, ben ritrovati in questo nuovissimo video dove riprenderò il Catechismo di San Pio X, che era in realtà qualche video già che non trattavo. Dunque, siamo arrivati al diciottesimo articolo. Perché Dio premia i buoni e castiga i cattivi? Dunque, risposta. Dio premia i buoni e castiga i cattivi perché è giustizia infinita. A me la vendetta, io farò giustizia, dice il Signore nella lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 19. Il Signore prova il giusto e il malvagio, ma chi ama la prepotenza, egli lo odia di cuore. Pioverà sui malvaggi brace di fuoco, zolfo e vento abbampante è la parte della loro coppa. Poiché giusto è il Signore e ama le giuste azioni, i retti vedranno il volto di Lui. Salmi 10, 6, 8 Dunque, la giustizia è la virtù che dà a ciascuno ciò che gli è dovuto. Assegnando il castigo proporzionato alla colpa e il premio corrispondente al merito. La giustizia di Dio, come tutte le altre sue perfezioni, è infinita e si identifica con Lui. Come giustizia infinita, Dio non potrebbe assegnare la stessa sorte ai buoni che lo amano e lo servono fedelmente, e ai cattivi che col peccato calpestano i suoi comandamenti e disprezzano la sua volontà. Ecco, vedete, quindi vediamo che il Catechismo di San Pio X sottolinea come Dio, che è perfetto in tutte le sue virtù, così è perfetto anche nella virtù della giustizia. E quindi Dio non potrebbe mai, in un'ottica di perfetta giustizia, assegnare la stessa sorte ai buoni che lo amano e lo servono fedelmente, a coloro che non lo servono e che non lo amano. Perciò Lui dà una sorte a coloro che lo amano e lo servono e un'altra a coloro che non lo amano e non lo servono. E questo perché è infinitamente giusto. Vedete, mentre alle volte nella giustizia umana si possono trovare delle imperfezioni, alle volte, umanamente parlando, se sono casi, se fare giustizia si tratta di farla in casi giudiziari, magari alle volte subentrà anche la corruzione, no? E allora si chiudono occhi laddove non si dovrebbero chiudere. E allora questo in Dio non accade. Questo in Dio non accade. Dio non è corruttibile. Dio non si fa corrompere da niente e da nessuno. Dio è giustizia con la G maiuscola. Al buono da ciò che merita e all'empio, anche a esso, da ciò che merita. Riflessione. Se a trattenerci dal male e a spronarci al bene non basta all'amore di carità, servano almeno il timore del castigo e il desiderio del premio. Esempi. Primo esempio. Al primo peccato, commesso dai nostri progenitori nel paradiso terrestre, esegui subito il castigo divino con l'esclusione dal luogo di delizie, l'esilio, la perdita della divina amicizia, la condanna alla morte, all'ignoranza, al lavoro e a tutte le malattie e miserie della vita. Come dice in Genesi. Quindi, vedete, al primo peccato, commesso da Adamo ed Eva, è seguito immediatamente il castigo, che è significato l'esclusione da quel luogo di delizie che era l'Eden, che conseguiva la perdita dell'amicizia con Dio, la perdita di uno stato di grazia, e quindi la condanna alla morte, al lavoro e a tutte le miserie della vita umana. Secondo esempio. La misericordia divina sopportò a lungo i peccati dei discendenti di Adamo, che diventavano sempre peggiori, ma alla fine la giustizia intervenne e punì l'umanità col diluvio universale. Tutti gli uomini perirono, eccetto Noè con la sua famiglia, che fu salvato perché era un uomo giusto. Ecco, vedete. In questo caso Dio, diciamo detto gergalmente, ha mandato giù tanti bocconi amari, ha sopportato a lungo e a lungo i peccati del genere umano, finché non ha detto basta, e ha punito l'intera umanità con il diluvio universale salvando l'unica famiglia giusta, le uniche persone giuste che erano Noè e la sua famiglia. E quindi è stata fatta giustizia. Terzo esempio. Quando poi il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e con lui tutti gli angeli, allora egli si siederà sul trono della sua gloria e tutte le nazioni si raduneranno dinanzi a lui e separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capretti, mettendo le pecore alla sua destra e i capretti alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra, venite, benedetti dal padre mio, a prendere possesso del regno che vi è stato preparato fin dall'origine del mondo. Perché io ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e voi mi deste da bere. Ogni volta che avete fatto questo a uno di questi minimi tra i miei fratelli, l'avete fatto a me. A quelli invece che saranno alla sinistra dirà via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere. Ogni volta che non avete fatto questo a uno di questi piccoli, non l'avete fatto a me. E questi andranno all'eterno supplizio e i giusti alla vita eterna, come dice il Vangelo di Matteo. Dunque, abbiamo sufficientemente compreso per questo video sul diciottesimo articolo del Catechismo di San Pio X che Dio, nella sua perfetta giustizia, perché, ripeto, è perfetto come in tutte le virtù, in questa virtù anche, chiaramente, e compensa il giusto che agisce seguendo i suoi comandamenti, che agisce amandolo e servendolo fedelmente e punisce l'Empio che calpesta i suoi comandamenti e non lo ama e non lo serve. A ognuno Dio da ciò che merita, secondo la sua infinita giustizia. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.